Comodo? Oh che bello, cioè non entrerà nessun gatto nella mia nuova camera, cheat. Oh la porta è chiusa. Però c'è un cane dietro, sale e mi chiedono sullo schermo e Mirta può. Perché Mirta può? Perché ha un po' di congiuntivite nell'occhio. Esti non ci dimentiamo? Esti. Moribuanzi amici, ciao amici. Andre sorride perché è il suo gioco preferito del momento che stiamo portando sul mio canale. Avete capito di cosa parliamo? Parliamo di? The Sims. No. Allora Scrubber Nights. Di quella roba che non sappiamo pronunciare da bestseller Scrubber Nights. Come scusa? Scribble Nights. Se io almeno lo faccio a Pozzaro a dirlo così strano. Anche io Scrubber Nights. Ho visto che piace tantissimo anche a voi. Infatti nei commenti mi avete detto in molti che cosa creare. Tipo mi avete detto per far ridere il clown crea il clown. Poi mi avete detto come far sparire il camioncino e altre cose che non mi ricordo. Con un mago? Con un mago. Quindi ora raga io adoro questo gioco. Veramente mi fa impazzire. È troppo divertente. Dall'intanto che non lo trovo. L'ho trovato. E quindi ora catapultiamoci nel mondo di creare le parole. Mi hanno detto catapultiamoci. Mi ha dato di non dimenticare gli aggettivi. E di mettere in posto gli aggettivi. Non hai visto come super caratterezza di me. Assolutamente. Continua. Ah già che eravamo rimasti nel... Sì che hai spostato l'elicottero perché lo volevi lì. Allora sì. Scendo. Allora dobbiamo scendere. Lo volevo proprio lì. Cosa è che dovevo fare qua? Qua non dovevo aiutare nessuno. Ha detto che poi abbiamo messo un sacco di mini missioni. Ah sì? Allora. Ah dobbiamo aiutare questo tizio qua? Eh il cavaliere. Il cavaliere è nero. Oh il tizio non deve andare. Vattene. Ma cosa è schiacciato che sono un tipo di conti esclamativi? Allora vorrebbe vedere qualcosa con i colori della mia squadra? Mi motiverebbe a vincere la corsa. Vedere qualcosa con i colori della mia squadra? Lui è rosso. Dagli un palloncino rosso. Crea oggetto. Un palloncino rosso? Sì. Sicuramente. Penso andasse bene qualsiasi cosa. Palloncino? No. Il palloncino. Rosso. Vediamo. Guardalo. Guarda come è felicissimo. Ma perché è la sua serie a rotelli? Ha vinto. Guarda come vince. Guarda come vince. La mia squadra ha vinto. Io ero i rossi. Visto? Perché hanno preso una sedia a rotelle e hanno fatto una gara sulla sedia a rotelle? Che camminano benissimo. Questo lo sai tu. Non lo puoi sapere. Miracolo! Possono camminare. Sale. Crea. Raccolgo. Ti vedo eh. Ho raccolto l'oggetto. Questo malato qua cosa vuole? Guarda per me se lo porto al tizio. Guarda che roba. Non ci fa niente. Sì invece guarda. Vai. Perfetto. Era quello che volevi fare? Sì. Ok. Lancia. Ti sei reso conto che l'hai messo sul tavolo vero? Che non la torre al dottore. Così me lo posso rubare lo scotch ora. Raccolgo lo scotch. Che non si sa mai che mi può servire. Scocciamo il cuore per te. Così non si muove più. Usa. Come usa? Cosa? Non è andato mi sa. No. Raccolgo. Cos'è raccolto? Lo scotch penso. Scusa ma parla con la tizia. Chi vedi? Tocca la testa di Maxwell per centrare la camera su lui. Va bene. Io voglio andare a far ridere. La testa è questa qua sopra. Ah questo dici. Ok. Proviamo a far ridere il clan con il clan. Ah è vero che l'abbiamo riempito di cose. L'abbiamo riempito sul letto. Allora elimina. Crea oggetto. Un altro clown. Vediamo se ha senso. E glielo mettiamo qua. Però sta ridendo. Chi? Aiutami a ridere di nuovo. Eh. Prendi uno specchio. Così si auto vede e vede. Un clown ride. Specchio vedi specchio. Aiutati di me. Uno specchio. Io ci facevo i torneri. No no basta fare così. Aggiungi il settivo. Felice. No vabbè non funziona così. Eh non funziona. Così. Ci ho provato scusami eh. Fidati con lo specchio funziona. È logica. Ok vado. Vai. Allora specchio. Lo metto qua davanti. Eh no. Quello piccolo di me. Quello portate. Questo c'è Andri. No specchietto allora. Non c'è lo specchietto. Eh vabbè. Come faccio ridere il clown. Aiutami a ridere di nuovo. La scelta migliore è sempre con il video. No fagli vedere il video. Eh. Eh. Come si fa? Solletico. Solletico. Lo ha fatto. Le scorreggia ti ricordi? No. No quella era la barzelletta. Solletico. Con selenio. Fagli una salsefica. Forse se gli do la pizza. Beh con la pizza tutti sorridono. Perché? Che logica è? Perché è la pizza? È il gioco perfetto per caraggio. Dico le stupidate. Dico le stupidate funziona. È impossibile che la tua logica funzioni in un gioco. Io sono senza parole. Non ci voglio credere ragazzi. No ancora sto furgoncino col boa. Dai il boa abbiamo fatto divertire. Come si toglie sto furgoncino Andri? Allora. L'altra volta abbiamo provato. La multa. Dobbiamo dargli la multa. Perché lui non può mettersi qua. Ma lo facciamo sparire nel metodo. Guarda gli metto la multa. Un po' meno convenzionali. Mi lancio la multa. Oh è arrivato il vigile. Boh. Ha messo il blocco quello che volevo mettere io. Mi bastava chiamare un vigile allora. Beh è normale. Mettiamo un aggettivo al vigile? Sì. Sexy. Ma non per oggetto. Sexy? Sexy. No. Secca allora. No. Vigile. Il vigile banana. È un aggettivo? Sì. Certo. Un vigile banale. Un vigile barbara. Oh è barato. È solo un po' annoiato. Allora ora qui andiamo. La galleria della virgola. Ci sto. Benvenuto alla galleria della virgola. Guarda siamo in un museo. C'era Dante. Ma quello ci vuole venare? C'è un manganello. Perché c'era un pinguino? Non lo so adesso guardiamo. Ma qua c'è un sasso. L'oggetto lo facciamo grandissimo. Ma era un aggettivo non mi pare. Sì. No. Un granaio allora. Io sono un tetto gioco bellissimo ti giuro. Un granaio lo buttiamo via. Cosa vuole la vecchia? Uno di questi manufatti è falso. Aiutami a scoprire quale. Crea un oggetto. Sherlock Holmes. È un investigatore. Archeologo. Archeologo. No un investigatore. Per i manufatti l'investigatore. Guarda eh. Guarda. Vedi? Manufatto contraffatto. È quello che mi preoccupa di più. Perché è l'investigatore. Che io sono... Che tu riesci a capire la logica di sto gioco. È quello che mi preoccupa di più. Andiamo avanti. Vai andiamo avanti. Raggiungi un accettivo. Ok. Qua c'è la cosa. Aiuta Max a creare un'opera che di sicuro piacerà ai patrocinatori del museo. Inizia. Patrocinatori. Schizzinosi. Inizia. Non possono mettere di queste parole. Perché è diventato un robot lì? Ma che non so. È il giorno di apertura del museo. Metti qualcosa alle cornici che piacerà sicuramente ai quei tizi. Metti qualcosa alle cornici. Allora qua ci mettiamo un coniglietto. Perché? Perché piace a tutti il coniglio. Una caviglia? Perché hai dato il robot il coniglio? Non mi volevo. Volevo metterlo qua. Oramai è fatto. Ma devo metterlo nel disegno. Il sole. Perché il sole piace a tutti. Te l'avevo detto che il sole piaceva a tutti. Lo sapevo. Poi. Arriva qualcun altro. Cosa potrebbe piacere a questo? Uno. Piramide. Guarda. Guarda me. Fidati di me. Sì no. Ok. Guarda. Ma perché a un robot piace il sole? Perché sì. Ci stava bene. Piramide. Quanto sono forte? Questo qua. Una collina? Quello è il cervello. Sono zombie. Mangiano i cervelli no? Cervello. Vediamo. Io secondo me l'ho fatto felice. Sì. Oh mio dio. Questo che cos'è? Un senza testa? Questo crema solare. Perché se si scotta poi lo vedono. Ma che dici? È l'uomo invisibile. Non l'hai visto? Cosa c'entra la crema solare? Se lui si scotta? Hai detto una cacata. Perché non si vede niente? Cosa c'entrebbe? È l'uomo invisibile. Ok. L'uomo invisibile cosa c'entra? Con lo specchio? Lo specchio? No. Cosa se ne fa l'uomo invisibile dello specchio? Si spaventa. Scrivi il latino. Ma perché? Te l'abbiamo detto! Te l'abbiamo detto! Lo sapevo! Non si vede. Lo sapevo che era lo specchio. Senza parole. Ci sono le stelline dietro. Andiamo a prenderlo la stellina perché questa missione è stata fatta. Roppiamo il salvatanano. Ma hai visto il porcello? Si. Non lo so. Lo svuoto. Prendi cash. E poi roppiamolo però. Si. Quanto siamo forti. Andrew e te insieme siamo una macchina da guerra. Si. Come quella che c'era fuori. Noi belli sbloccati. Vai da Lily. E chi è Lily? Che ne so. Ok. Ah la tizia carina. Allora. Noi siamo qui nella fattoria. Abbiamo sbloccato. Ah qua guarda dove c'è l'ospedale. Andiamo a luciare. Non possiamo andarci qua. Come no? No. Cos'è quello? Un tubo? Allora abbiamo completato questa. Adesso dobbiamo tornare qua. Guarda. Due di otto. Zero di uno. Dobbiamo prendere la stellina. Ah no ma è diverso. No. Questa è la città capitale dove eravamo prima. Ma era diverso. No. Non era così prima. Ah ok si era così. Ma io tutto da sinistra c'è un'altra cosa. Però non c'era questo tizio prima. Metti qualcuno alla cabina telefonica per farne un mio aiutante. Superman. Crea oggetto. Chi li mettiamo? Superman. Super come aiutante? Non c'è. Superman. L'uomo sabbia va bene lo stesso. Vediamo. Magari si. Ah si va bene. A posto. Uuuuuh. Non voleva Superman. Lui voleva l'uomo sabbia. Ci sta. Ora puoi utilizzare il fratello di Maxwell come avatar. Fighissimo. Di niente. Questa qualcosa è brutto. Ah fa schifo. Allora facciamo così. Eeeh. Sapone. Facciamo lo spazzolino per pulirlo. No che palle con lo spazzolino. Cosa ci fai con il sapone? Oggetto d'acqua? Come si fa la canna? Idropulitrice. Si vai. Idropulitrice. Pulitrice. Chiamiamola una meteorologa. Idraulico. Un'imperatrice. Forse con l'imperatrice che dà qualche ordine. Ma perché? Magari dà l'ordine di niente. Buttiamola via. Fa schifo. Cosa sa... Che è? Non vediamo nulla. Ci sono le nuvole. Meteorologa! No no. Ma cosa stai facendo? Per soffiare le nuvole. Eh, il soffiatore. Il soffianuvole. Aspirapolvere. Così non le soffi. No, infatti. Guarda eh. Se va, ti giuro che ti arriva qualcosa in testa. Sai vero? Dai. Aspira, aspira. Come possiamo fare per soffiare via le nuvole? Scrivi invisibili come aggettivo. E freghiamo così. Non è impossibile. Dai. Allora, sto gioco è bellissimo. Mi rifiuto. No raga, mi rifiuto. Ok. Possiamo scendere. Di niente eh, Sabri. Ma che belle nuvole invisibili. Sono senza parole. Perché guarda c'è una palestra. C'è una leva, tira quella leva. Arrampicati. Ma lì c'è una leva, tira quella leva. Ah, qua non sono ancora arrivata. Crea una nuova fontana. Metto un oggetto nell'acqua vicino all'interruttore, quindi premilo. Ah, ok. Dobbiamo prima fare la fontana. Eh. Discovolo. Mettiamola nel discobolo. Discovolo? Mi sai qual è? Sì che so, ma non ce l'avrà mai. Come? Discivolo. Ah, un diavolo. Un diavolo. No, mi mena. Oh, ti sta venando. Mi ha menato. Ti ha tolto la vita. Ma guarda che... Anche tu è il diavolo. Allora, cosa creiamo? Per fare una fontana. Mm. Satua. Vai, bro. Non parti. E devi schiacciare e interagisci. No, sull'interruttore. C'è scritto qui, ma... Grande! Mi hanno anche i soldi, vai rubare subito i soldi. Ma come? Raccogli. Raccogli. Raccogli anche i soldi. Raccogli. Per fare i soldi, questo lo puoi tenere tu. Andiamo su in alto. Caserma dei pompieri. Il pompiere. Paura non ne ha. Go! Benvenuto a Caserma dei pompieri. Allora... Tanto sono in giro con la banconota di soldi. Avvicinati per interagire. C'è un cagnolino. Accarezzalo. L'hai schiacciato? Accarezza il cane. Felice! Solo perché c'hai i soldi. Sì, esatto. Io metterei un secchio dove c'è. Allora, aiutami a testare tutti gli allarmi. Do dei soldi, così lo paga qualcuno. No, niente. E se prendi la porticina e andiamo sopra e ci buttiamo dall'alto? Ho l'idea, questa la possiamo diventare gigante. Già che inizi la pratica non ho un'idea, è preoccupante. Ho creato un gigante. Ma perché hai creato un gigante? Scappa! Hai fatto uccidere il tizio, pompiere. Metti un diavolo. Oh, facciamo... Oh, mi sta minando anche a me! Ma adesso come faccio? Il tizio è morto. Posso riprendermi i soldi, però. Funziona, non può? Ma qua c'è Tudor! Allora, questo qua è il crash test. Sì. Corrente. Perché corrente? Perché lo faccio di vivere con la corrente. Forse stavolta il fulmine funziona. Vai. Questo qua è il livello del fulmine. Eh? Vivo! Io non ho parole di sto gioco. È stupidissimo! Io riesco a farlo. E tu riesci a capirlo! È quello che mi preoccupa di più di sto gioco. Qua c'è un barbolo. Poverino! Crea oggetto! Idrante! Secchio da... Guarda il crash test come felice. Ora posso anche arrampicarmi. Ma anche prima potevi. Ma prima non lo volevo fare. C'è il fuoco. Allora, ricostruisci la casa. È come glielo ricostruisco. Con il falegname. Dici? O come un muratore bergamasco. Non so se... Va bene il falegname. Questa ora lo posso buttare. Torniamo... Un... Che problemi ha il caso? Un muratore. Un muratore. Un muratore. Falegname mi fa il tavolo. Dipende. Sono anche le case di legno. Mmm. Mmm. Fammi la casa. Da lì i soldi. Allora, raga. Dovete aiutarci. Che questa sirena... Allarme scarico. Il fulmine abbiamo provato a farglielo. La corrente. Crea oggetto. Come possiamo ric... Le pile? Ma perché le pile? Cosa dovrebbe farci una pila? Che ne so, magari andava. Su, magari sopra c'è qualcosa altro che ci aiuta. Non sale! La porta nera! Non è difficile sto gioco. Facciamo questo, poverino. Irrigatore. Che cosa c'entra? Questo dovrei cliccare. Allora, russa così forte. Non posso dormire. Tappi le orecchie. Esatto. Se no, io ho un'altra alternativa. Il gigante che mena quello che dorme. No, 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 no. Allora, i tappi li abbiamo sistemati. Vigilessa del fuoco assordante. Li possiamo mettere tipo, non so, il cerotto per il naso? Sì, lo troverai sicuramente. Cerotto per il naso. Guarda. Cerotto. Un canotto anche. Aiutiamo la bella! Non trovo più il mio elmo! Glielo creiamo. E qual è il problema? Vieni. Da soldato o da cavaliere? No, da soldato. Ma lei usava quello da cavaliere? È il suo nell'armadietto. Ma va a caca! Vai, vai giù. Vedi che si può scendere quel coso. Allora. È nel suo armadietto. Che sarà quello da rosa? Quindi dobbiamo aprire l'armadietto. Suota. Eccolo qua! Allora, prendilo. Raccogli. Andiamo a portargli l'elmo alla cavalleria. Di niente. Perfetto. Ma di niente cosa vado tu io? Mettici la corrente. Consegna. Vai. Perfetto! La corrente dove ce l'hai? La corrente è il coso. Ah, quello per suonare. Ah, no, vai sopra. Guarda dove è il guasto. L'ho visto. Vedi i fulminini? Ah. Eccolo lì. Eccolo qua. E? Funzionante, metti come aggettivo. Scarico. Qua devo mettere la batteria, guarda. No, perché è la batteria? Perché qua devo mettere la batteria? Batteria auto. No, no, devo mettere la pila. Guarda, eh. La pila. E' un po' in crisi a scrivere pila. Ecco, mi scappa. Mi non sta riuscita. Guarda ora, eh. Guarda. Sono quasi preoccupato. Guarda ora che non è successo un bel niente. Ma dov'è la pila però? Ah, Andre, non so come ricaricarlo. Andiamo a attaccare la corrente. Ora, guarda, ora col fulmine va. Perché prendi te stessa? Come fa a esserci un fulmine dentro una casa? Ok, il fulmine non funziona. Vabbè, ragazzi, ascoltate. Noi abbiamo dei problemi. Siamo bloccati qui. Aiutateci a creare, non sappiamo, secondo voi, come si può sistemare sto coso. Perché stiamo veramente diventando matti. Io adoro questo gioco. Mi fa troppo ridere. Qui si è stata bravissima. Andre adora questo gioco. Vabbè, lui è un po' più scarso di me. Sotto questo, io sono la più forte. Quindi mettete un bel like. Perché noi vogliamo continuare questa serie. Un bacio grande. Di anche tu un bacio grande. Un bacio grande. E una bella pila. Un bacio grande.